La pensione quando e quanto se ne è discusso presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nociare Inferiore a relazionare il Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali, Luigi Pagliuca. Abbiamo la fortuna di appartenere a una previdenza privata, la Cassa dei Ragionieri, e chiediamo tanti contributi. Pagliamo poco, però almeno le paghiamo. In un periodo come questo, di crisi, già avere una Cassa stabile è già un vantaggio non indifferente. Sono momenti difficili anche per la vostra categoria? Sono momenti difficili per l'intero Paese. Noi siamo a fianco dell'imprenditore, quando l'imprenditore gioisce noi gioiamo, quando l'imprenditore soffre noi soffriamo. Oltretutto il nostro tipo di professione è quella di stare a fianco quotidianamente. Da questo scoppia un'amicizia e i primi a essere non pagati quando c'è la crisi sono proprio gli amici. Quindi soffriamo più degli altri. Oggi un confronto con l'Ordine di Nociare Inferiore. Quali notizie, quali prospettive e quali speranze ha dato ai colleghi qui del territorio? Più che speranze, le richieste. Le richieste di essere forti, perché comunque prima o poi la crisi finirà. All'interno di Nociare abbiamo una grassa fortuna di avere un presidente giovane, dinamico, il presidente D'Antonio, che ha la fortuna di essere un vero motore per tutti quanti i colleghi. È un fiume in pieno, un sacco di idee e quindi bene il presidente, bene i colleghi di Nociare e a questo punto bene anche i cittadini. Ma sono tanti gli appuntamenti in cantiere promossi dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Nociare Inferiore guidato da Giovanni D'Antonio. Cerchiamo di coprire più punti di vista, cerchiamo di raccogliere tutte le esigenze e i bisogni dei nostri iscritti e cerchiamo di darne risposte. Oggi abbiamo avuto qui il presidente nazionale della Cassa di Previdenza Ragionieri per cercare di dare delle risposte ai tanti nostri iscritti per quanto riguarda il loro futuro pensionistico. Avremo qui per la prima volta, così come facciamo per la sede in tribunale, siamo secondi ancora una volta all'Ordine di Napoli, avremo qui il Tribunale delle Imprese, accoglieremo il Tribunale delle Imprese, i giudici del Tribunale delle Imprese saranno qui, quindi si sposteranno in massa e saremo qui ad accoglierli però l'intera provincia di Salerno, perché l'intera provincia di Salerno oggi viaggia all'unisono, assieme, compatti, cercando di farci forza a vicenda e quindi saranno presenti anche i presidenti di Salerno, Vallo della Lucania e Sala Consilina. Una realtà, quella dell'intera provincia di Salerno, che sta crescendo sempre di più. E il segnale sarà dato proprio nell'accogliere l'intera magistratura del Tribunale delle Imprese di Napoli, qui a Nocere Inferiore, il prossimo 26 novembre. E Dulcis in fundo, finalmente, ci sarà il 29 novembre, alle ore 12, presso il Tribunale di Nocere Inferiore, la conferenza, la presentazione della neonata associazione dei tre ordini professionali, quello degli avvocati, il nostro dei commercialisti e dei notai. Una sinergia che si è stretta perché sempre di più i professionisti hanno bisogno di stare assieme, di essere sinergici, di far sentire la loro voce sui territori, negli ambiti che contano e cercare di parlare un'unica lingua, cercare di avere lo stesso interlocutore e cercare di farsi forza a vicenda perché i professionisti, oggi come oggi, penso che siano probabilmente soffrendo un po' di più la crisi in questo marasma generale che viviamo quotidianamente. Grazie.